E' stata Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria e presidente di Confagricoltura Donna Piemonte, a introdurre i lavori per l'assemblea ordinaria annuale che Confagricoltura Donna Alessandria ha tenuto quest'anno tra le splendide colline del Tortonese a Sarezzano presso l'azienda Vigneti Repeto. La relazione sul rendiconto finanziario 2021 è stata tenuta da Cristina Bagnasco, direttore di Confagricoltura Alessandria, mentre il commento sullo stato dell'associazione di Confagricoltura Donna è stato tenuto dalla presidente di Alessandria Michela Marenco. Siamo prima di tutto in un posto meraviglioso qui a Vigneti Repeto, stupendo perché è veramente un posto magico. Siamo donne, siamo donne di Confagricoltura della provincia di Alessandria con idee e progetti da portare avanti e oggi un appuntamento per incontrarci, per parlare di queste cose, per parlare di cosa si vuole fare perché le donne sono molto importanti in agricoltura. Io sono una donna del vino, è stato un anno difficile, non è stato un anno facile e soprattutto Confagricoltura Donna non è solo vino, rappresentiamo vari settori, perché la provincia di Alessandria è una provincia ampia con tantissime culture e qua molte donne nostre associate rappresentano altri settori, abbiamo tantissime, tantissime grano, pensate al grano, ai pomodori, al riso, tantissime altre culture, nocciole e quindi siamo donne, noi veniamo da ambienti diversi ma ci troviamo perché le problematiche del mondo agricolo sono per tutte veramente importanti, cerchiamo di affrontarle e di tirare avanti in questo mondo bellissimo.